Avrebbe dovuto essere una operazione di routine, costate invece gravi conseguenze per i due operai travolti da alcune travi poste sul pianale di un mezzo pesante, utilizzate per la realizzazione di una nuova copertura esterna a supermercato Testa, che si affaccia sulla centralissima Viale Gusmini attraversando l'abitato di Clusone. Erano da poco passate le 8.30 di questa mattina, quando durante le operazioni di spostamento dei sostegni in legno, dal cassone del camion al piazzale antistante il punto vendita, le strutture pesanti scivolavano travolgendo i due operai. Immediata la macchina dei soccorsi, da Oriol Serio si levava in volo l'elicottero del 118 atterrato sul piazzale dell'ex Cinema Mirage, mentre confluivano in zona ambulanze e squadre dei vigili del fuoco giunte dal vicino distaccamento di Clusone, carabinieri e polizia locale. Mentre uno dei feriti veniva trasferito agli ospedali riuniti di Bergamo, dove i sanitari diagnosticavano un trauma cranico e toracico, per l'altro rimasto incastrato sotto le travi si adoperavano i vigili del fuoco nelle delicate operazioni di soccorso. Difficoltà alla circolazione lungo la provinciale, dove si sono registrati rallentamenti durante le operazioni di soccorso.